Salve, sono Basti Linda, sono venuta qui dal dottor Martinko a farmi visitare. Ho fatto un impianto con Strauman, giusto? E mi sono trovata da Dio, veramente. E auguro a chi ha veramente dei problemi con la bocca di venire qua su, in Italia, mi giuro. Non va la pena.